Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. Nel video di oggi vi propongo l'ascolto della registrazione audio dell'udienza sulla strage del treno rapido 904 tenutisi a Firenze il 27 gennaio 2015. La strage del treno rapido 904 o strage di Natale è nome attribuito all'attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre del 1984 nella grande galleria dell'Appennino, subito dopo la sezione di Veglio, ai danni del treno rapido numero 904, proveniente da Napoli e diretto a Milano. A Pallare è Gaspari Mutolo. Gaspari Mutolo, detto Asparino, nasce a Palermo il 5 febbraio del 1940. È stato un mafioso italiano, oggi è un collaboratore di giustizia e pittore. Gaspari Mutolo inizialmente fu un meccanico, poi si dedicò alla malavita. Da giovane si occupava solo di piccoli furti, fino a quando fu arrestato nel 1965 per associazione a delinguare. In caccere conombe Salvatore di Ina e fu suo compagno di cella per circa 8 mesi. In quel periodo di Ina suggerì a Mutolo di uscire dalla microcriminalità per entrare a far parte della mafia. Sosteneva Ina, è più facile uccidere che rubare. Non appena uscì dal caccere, Ina lo raccomandò a Rosario Riccobono, boss dei quartieri Partan e Mondello. Dopo una serie di arresti e scacerazioni, nel 1973 incontrò Riccobono e Ina. Nel frattempo in libertà ed entrò in cosa nostra attraverso i riti della puncitura e della santina bruciata. Si sposò perché all'epoca era una pratica obbligatoria dei mafiosi. Divenne in breve tempo uno dei più stretti collaboratori di Riina e di Riccobono. In particolare di Salvatore di Ina fu anche fidato autista. Mutolo fu una figura operativa e non di dialogo. Commese vari omicidi, estorsioni, intimazioni, sequestri di persona. Divenne poi un grosso trafficante di droga, in contatto con il sicroporegno Con Banking. Un lavoro remunerativo che gli permise di possedere in poco tempo un appartamento e di costruire una palazzina. Nel 1982 fu salvato da Salvatore Ina dalla mattanza di Riccobono, ma non dall'arresto e dalla reclusione nel caccio di massima sicurezza di Solicciano. Fu proprio tra le mura del penitenziario Fiorentina che Mutolo si avvicinò all'arte. E grazie all'ergastolano Mungo, detto da Ragonese, di cui ammirava la pittura durante l'ora d'aria. Finirono in cella insieme e per il mafioso siciliano fu l'inizio di un nuovo modo di comunicare, con colori e pennelli. In caccere conobbe anche Luciano Riggio e a sua firma divinse alcune tele. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo le dichiarazioni di Gasper e Mutolo. Mi raccomando, se il mio canale mi piace iscrivetevi, così da entrare a far parte della mia community. Lasciatemi un commento sotto al video e mettete like al video se vi è piaciuto. Allora ci dice le generalità? Mi chiamo Mutolo Caspare, sono nato a Palermo il 5-2-1940. Sì, 197 bis. Quindi lei sarà sentito su fatti che non riguardano chiaramente la sua posizione come testimone a tutti gli effetti. Legga la formula dell'impegno a dire la verità. Presidente, scusi, è assistito dall'avvocato? Massimo Batacchi di Firenze in sostituzione dell'avvocato Silvio Nistico. Perfetto, ne diamo atto. Come da nomina depositata. Sì, 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 facciamo leggere la formula. Consapevole della responsabilità morale e giudirica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quello che è a mia conoscenza. Perfetto, allora risponda prima alle domande del pubblico ministero. Allora, signor Mutolo, lei è collaboratore di giustizia da quando? Ufficialmente dal 1992. Cosa intende dire quando dice ufficialmente? No, perché già nel 1991 ero già in contatto con il giudice Falcone, quindi io mentalmente ero uscito già nel 1991. Aveva preso questa decisione quindi di collaborare già nel 91, no? Sì. Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì, signore. Io ufficialmente sono entrato, diciamo, a fare parte di Cosa Nostra nel 1973. Di fatto c'era già da prima, quando dice ufficialmente, è sempre la stessa domanda. Cosa intende dire? Cioè, siccome c'è un rito per entrare in Cosa Nostra ufficialmente, io già prima ero... Per esempio, io chiamo un cetto Namio, Rosario Namio, che questo era un mafioso che l'hanno preso qualche cinque anni fa, che già lo chiamavo io dal 1967, che lui era mafioso e io no. Però io lo conoscevo perché ci facevo qualche favore, quindi ero vicino, diciamo, a quell'ambiente mafioso. A quell'ambiente. Quale famiglia era di appartenenza? Nella famiglia di Partanna Mondello, comandata da Rosario Riccobono. Ho capito. Comandata da Rosario Riccobono, a quale mandamento faceva riferimento? Guardi, in quel periodo il capomandamento era, diciamo, di Riccobono. E dopo la sua soppressione del 1982, passò sempre nell'ambito delle tre famiglie, passò a San Lorenzo, capegliata da Gambino Giacomo Giuseppe. Ah, Giacomo Giuseppe, Pippo Gambino. Senta, lei che ruolo aveva in questa organizzazione? Guardi, io ufficialmente ero capo di Cina, però sapevano tutti che io ero, diciamo, amico di Riccobono, che addirittura abitevamo assieme con le famiglie, essendo latitanti, essendo molto amici, quindi era un ruolo ben specifico, diciamo. Sapevano che se dovevano cercare a Riccobono, basta che mi rintaggiavano a me e io ero sempre in contatto con Riccobono. Quindi, diciamo, capo di Cina, l'uomo di fiducia del capo famiglia, no? Sì, che quasi tutti, diciamo, quasi tutti questi grossi capi mandamento avevano alcuni personaggi che li tenevano a sua disposizione per amicizia, per interesse. Con Riccobono io c'ero amico perché avevo cresciuto, diciamo, accanto dove abitava lui. All'epoca com'era organizzata la struttura? Poi se mi fa un breve scursus fino al 1984, vi interessa soprattutto? Guardi, io ci sono diverse dichiarazioni che io faccio, che diciamo incomincia la struttura di quando io entro a fare parte del 1973, però già sapevo, notizie che ho preso dopo la mia entrata, che dal 1969, dopo che Ligio e il famoso processo di Catanzaro escono tutti fuori, che vengono assolti, parlementani, corleonese, riformano a fare di nuovo Cosa Nostra. Con tre persone, chiamato il chiumvirato, diciamo Ligio, Stefano Bontade e Gaetano Badalamente. Queste tre persone avevano vita, potere di vita e morte di ogni rione, di ogni singola persona, quindi Riccobono prima è stato, diciamo, autorizzato a fare il gruppo e dopo ha fatto la famiglia e dopo il mandamento. Diciamo, intorno al 1975 già la commissione incominciò a essere operante, diciamo, perché prima si feca una famiglia, un mandamento e insomma intorno al 1975 già la commissione era operante. Operante che purtroppo entra pure... Cosa intende operante? Cioè prendeva le decisioni? Sì, c'erano delle decisioni che prendeva la mafia, cioè c'erano delle cose, diciamo, che poteva fare un capofamiglia nel suo territorio, un capomandamento nella sua, diciamo, bargata e c'erano delle leggi, completamente erano leggi che emanava la commissione, la mafia. Queste leggi, diciamo, erano completamente da tutti i capomandamenti, quindi erano leggi in modo che nessuno poteva dire, ah, per quel capomandamento è successo questo, perché c'erano dei reati in cui si poteva avere una persecuzione politica, diciamo, per esempio i magistrati, avvocati, grossi industriali, persone di forza dell'ordine non si ne potevano toccare se non c'era l'ordine della commissione. Anche dei mafiosi che dopo entrò in questo, diciamo, codice, che prima che di toccare un mafioso, che lo doveva stabilire, diciamo, la commissione. Poi ci sono dei cambiamenti, vi faccio capire, allora c'è questa commissione che è operativa dal 75, dopo? Dopo, diciamo, entra, ci fu nel 1974, diciamo, una svolta nella mafia. Purtroppo, questo io ho cercato che di spiegarlo in diversi processi, anche nelle mie dichiarazioni quando ho fatto delle prime dichiarazioni nel 1992, che, diciamo, entrano, diciamo, i famosi corleonesi, che mentre la mafia, diciamo, tradizionale, questo triunvirato, che facevano parte anche i corleonesi, cioè volevano fare degli accordi, diciamo, non aggradendo lo Stato, ma in qualche modo, diciamo, essendo partecipe allo Stato. E in qualche modo, diciamo, nel 1974 ci sono riusciti. Perché? Perché mi ricordo che c'erano, io ascoltavo non perché io partecipavo nelle riunioni, ma perché parlavo con Riccobono, chiedevamo che siamo assieme. Cioè, già nel 1974 si parlava che la mafia non accettava più, diciamo, le associazioni a delinguerli. Quindi si era parlato di fare degli attentati in Italia, però criticando un pochettino quello che era, diciamo, l'operato dei terroristi, perché già nel 1974 ci sono dei terroristi in cui uccidevano delle persone che non c'entravano niente. Quindi noi, mafiosi, criticavamo questo modo di agire. Però, diciamo, era una necessità, almeno allora i capoccioni mafiosi che volevano fare, che non volevano più queste impostazioni, che un commissario si svegliava, so perché veniva ucciso un mafioso o una persona in una borgata, imputavano sia l'omicidio e faccevano l'associazione di tutti i mafiosi che erano schedati. Quindi io mi ricordo che con Badalamente, che spesso Riccobono andava a mangiare a Cinesi con Stefano Montate, Dirrado, con Rina o Luciano Liggio, si parlava che tramite alcune attentate, però senza ferire o fare morire personaggi, si doveva indurre, diciamo, lo Stato o le persone competente a togliere questa associazione a delinquere. Altrimenti che si dovevano fare degli attentati sia nelle banche oppure nelle statue. Quindi io mi ricordo che già c'erano quasi in tutti i posti d'Italia, perché in quel periodo, diciamo, noi abbiamo una decina a Roma, una decina a Torino e una forte influenza di mafiosi a Milano, che diciamo erano quasi tutti i corleonesi, perché c'erano i buoni, i fidanzati e le altre persone. Quindi a un certo punto, diciamo, non soltanto la mafia, la mafia con altri personaggi, diciamo, della P2 oppure della masoneria, che Stefano Montate aveva un cognato che si chiamava Vitale, che faceva parte propria della masoneria, hanno riusciti con l'accordo di qualche avvocato massone e di qualche magistrato ad accettare questo fatto. Infatti noi abbiamo un periodo, diciamo, della pacchia che va dal 74 fino al 77-78. Dopo c'è che si sveglia Chinnici, il buon giudice Chinnici, che vuole riammettere, diciamo, queste associazioni perché non arresta uno più a nessuno. E quindi qua incomincia, diciamo, l'idologia, diciamo, che avevano i corleonesi, ma più era, diciamo, il Rina, perché anche Liggio in qualche modo faceva paura, perché aveva un comportamento, diciamo, forte quando parlava con uno, però non era, diciamo, che sentiva questo bisogno di fare guerra verso lo Stato come Rina, perché Rina fu quello che fece arrestare a Liggio e portò a compiamento la distruzione di alcuni valori che avevano allora i mafiosi. Quindi da quel periodo in poi, diciamo, Rina, dopo l'arresto di Luciano Liggio, diciamo, prende il comando, perché viene arrestato Luciano Liggio? Perché io mi ricordo nella metà del 1974 con la scusa che erano l'attitante Liggio, Provenzano e Rina, e fanno approvare della commissione una legge, una persona di ogni mandamento doveva essere, diciamo, messo a disposizione di queste persone che potevano avere di bisogno. E mi ricordo io che questo discorso nasce, perché un giorno mentre sono io, Rina, Anselmo, Riccobono, Ganci, passa, diciamo, il Boris Giuliano, che riconosce a qualcuno, si ferma, però che poteva fare? Era solo con l'autista, non sapeva che cosa voleva, ma ebbe il coraggio che si fermò per guardare noi, ci siamo messi in macchina e abbiamo scappato. Quindi ottiene, diciamo, Liggio, Rina e Provenzano dalla commissione che ogni mandamento c'era una persona a disposizione, che se quelli che lo chiamavano non c'era bisogno di, dell'individuo, parlare col capo di Cina o col sotto capo, io mi assento, e dopo sì che si giustificava. Io per l'amicizia che avevo con Rina e Salvatore ero, diciamo, uno che faceva parte di queste persone. Però lo scopo di Rina era, diciamo, non soltanto se avevano bisogno di accompagnamento, è perché aveva in mente di fare qualche cosa dentro la mafia. Infatti, Luciano Liggio ebbe sentore di questo discorso, che Rina stava formando questo gruppetto di persone che spesso si riunivano, mangiavano, discutevano e a un certo punto manda a dire a tutte le famiglie palermitane di non rivolgerci più a Rina e Salvatore in mancanza di Luciano Liggio, di rivolgersi a Provenzano. Quindi Rina e Salvatore scomparisce della scena. Quello che notiamo noi palermitani, che dopo c'è motivo di discussione, di parlare, cioè che il carattere di Provenzano e quello di Rina erano ben diversi. Cioè, mentre Rina qualsiasi cosa si diceva, aveva, diciamo, quel coraggio, quella è, subito diceva sì o no di qualsiasi cosa che uno parlava. Invece il Provenzano era più cauta, mai dava una risposta diciamo pechisa. Si prendeva due ore, tre ore, non si sa con chi andava a parlare e dopo andava la risposta. Però nel dicembre del 1974 Liggio viene arrestato a novembre e c'eravamo un pugno di palermitani che volevamo andare a liberare a Liggio, perché Liggio era stato portato, diciamo, al carcere di Lodi, un carceretto piccolo, allora io parlo del 1974. Questo discorso venne in casa di un certo Pietro Bernengo, però subito Rina, che c'era anche Rina, dice no, 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 dice voi fatevi i fatti vostri, perché dice Liggio è corleonese, è un discorso che riguarda i corleonesi. Liggio è morto in galera dopo 25 anni, anche se è campato i cent'anni, Liggio non avrebbe uscito mai della galera. Quindi questi sono, cioè Rina dopo portò questa tua guerra, ma non solo contro lo Stato, ma contro tutte le regole anche di Cosa Nostra, uccidendo persone, inventandosi guerre, inventandosi tragedie che prima uccideva una persona e dopo portavano le giustificazioni, infine che portò al periodo in cui noi oggi viviamo. Io diciamo nel 91... Sì, andiamo prima per gradi, ora siamo partiti da un salto al 74-91. Diciamo poi Rina, lei dice, Liggio è morto in carcere dopo 20 anni, poi dice con omicidi e con altre cose riesce a portare la situazione che poi è quella che vediamo, ma come avviene? Rina riesce poi ad acquisire il comando di questa organizzazione e come? Negli anni successivi, sempre brevemente. Guardi, io nel 1975 mi trovo con Rina in un garage che aveva un certo Filippo Marchese detto Milinciana e Rina mi dice ufficialmente, mi dice sente Gaspera anche se noi mangiamo, facciamo qualche mangiata, qualche cosa, tu a ricco buono non ci deve dire niente. Anzi prima era perché era arrabbiatissimo, perché aveva saputo che Cuncera, quel famoso Cuncera che era con pari di Mannino, dell'onorevole Mannino, che va andare a dire in America, che Gaetano battalamente era diventato il capo dei capi. Quindi io non so, Rina aveva preso questa cosa come un'offesa personale e mi dice a me, dice senti, dici, quando un esercito va male, la colpa non è che dei militari, è dei coronelli. Dici, io a Gaetano ci darei una scopa, ci farei pulire gabinette, dalla mattina a dire quando lui verrebbe e mi dice, i gabinetti sono puliti, io li guarderei e le direi no, sono sporchi, pulisceli di nuovo. Quindi mi dice questa cosa, c'è pure un getto Antonino Quartararo che eravamo amici e lui mi dice, ufficialmente, Casper, anche se noi mangiamo, ci vediamo, non ci direi niente al sano. Io siccome ero tanto amico di Rina, ma ero tanto amico anche di Riccobono, cerco di essere sì, sincero. Guardi, se tu mi dici, vatti a buttare a mare, io sono autorizzato, io mi vado a buttare a mare della nostra famiglia, però io quando vedo a Riccobono non posso non dirglielo, perché ci abito assieme, con la moglie, i bambini piccoli, lui ha due femminucci, io quando lo vedo non ci posso mentire, è come se io lo tadissi. Infatti lui non è che mi disse, vabbè non è, l'amico mio, Quartararo, mi fa Casper, tu che lo capisci quello che ti ha detto, è stato uno spogo di amico. Ma io non lo capisco questo, ma cosa è come se non mi ha detto niente. Quindi queste persone che loro avevano a disposizione, dopo nella fine del 79, diventano tutti diciamo capomandamenti, però guarda caso che tutti i capi vengono uccisi e queste persone prendono il posto dei capi. Quindi è la cosiddetta guerra di mafia che c'è? Sì, ma infatti io non è che ho chiamato mai nelle mie tante deposizioni che c'è una guerra di mafia. Io dico che ci sono dei complotti, ci sono dei tradimenti, perché in una guerra è impossibile che muoiono 10.000 persone da una parte e nemmeno una persona da un'altra parte, perché insomma i Corleonesi non hanno un morto, perché non c'era guerra con nessuno, c'erano dei tradimenti che fachievano e che nessuno poteva pensare, perché Rina mente in campo una lotta che è la tragedia, che la mafia purtroppo non c'era abituata a queste cose, magari aveva delle cose più importanti di fare o di commettere, ma la tragedia in se stesso, cioè inventarsi che una persona mafiosa che rispettava quel comportamento mafioso e c'erano persone non soltanto come Rina, ma c'erano persone di qualsiasi livello sociale, perché io per esempio conoscevo i migliori imprenditori che erano i salvo, i cugini salvo, che erano mafiosi, conoscevo avvocati che erano mafiosi, quindi non è che erano tutti come mutolo o come Rina pregiudicati, portati diciamo alla malavita, c'erano anche persone diciamo che avevano una scelta cultura che io ancora oggi mi scerpello e dico come ha fatto Rina sradicare a queste persone che avevano una storia di mafia, ma dignitosa per quella mentalità, che lui ha riuscito completamente personaggi come i buccellati, i rimi, i battalamenti a sradicarle proprio. Quindi questi perdono i battalamenti che poi va in Brasile, i battalamenti che viene ucciso, diciamo il potere in seno all'organizzazione passa ai corleonesi e in particolare a Totò Rina, ho inteso bene? Sì, sì, tutti questi erano tutti quelli morti, sono tutti perché non condividono le prospettive che aveva Rina, non tanto Lidio o Provenzano, ma principalmente era Rina quello completamente che autorizzò nel 1974 che qualsiasi mafioso avrebbe ucciso un polizzotto o un uomo dello Stato, la responsabilità era di Rina, cioè non era una cosa che lui aveva diciamo questa voglia di fare guerra allo Stato e in qualche modo diciamo la porta e per qualche periodo diciamo c'era che è riuscito perché uccide a personaggi importanti come Lima, come Isalbo, insomma come personaggi importanti. Senta, nell'84 che a noi interessa, lei viene sentito il fatto che per quel processo, glielo dico sin da subito, è la strage del rapido 904 che è avvenuta nel 24 dicembre del 1984. Ecco, volevo sapere, all'epoca, in quel periodo, nell'84, erano già i corleonesi che comandavano i mandamenti in Sicilia? Sì, già i corleonesi prendono competente possesso della commissione, competente quando esce fuori famiglia, Gaetano va dalla mente, siamo noi fine del 1978, quindi dopo tutto quello che succede in Sicilia, ma per non dire in Italia, diciamo è opera dei corleonesi, ma corleonesi io non è che intendo dire uno che è nato a Corleone, cioè sono i corleonesi che erano intorno a Salvatore Rina che avevano quel progetto purtroppo che si preparava dal 1974. Ho capito, al 74 però gli omicidi continuavano eccellenti di collaboratori, di magistrati, di forze dell'ordine, di avversari, anche successivamente dal 1979 in poi, lo omicidi a bontà, di inserirlo, è così? Sì, sì. Senta, e allora in quel periodo quindi, diciamo, Rina ha una posizione di comando in seno all'organizzazione, rispetto agli altri capi mandamento o no? Sì, Rina è l'artefiche, diciamo, di mettere fuori famiglia alcuni capi mandamenti e personaggi come a Gaetano va dalla mente, perché lui da quel momento, diciamo, acquista, diciamo, il potere della commissione. Ho capito. E ci sono due fatti specifichi, cioè la morte di Cristina Giuseppe e di Calderone, e di Pippo Calderone, che erano due personaggi importanti, diciamo, in cui vengono uccise solo per volontà di Rina Salvatore. E nello stesso periodo, mentre fuori famiglia, diciamo, a Gaetano va dalla mente, e in qualche modo, mentre pure sotto brutte acque a Stefano Bontade, hanno dovuto intervenire i famosi greco, quelli che erano in Argentina, per non lo fare mentere fuori famiglia e per non lo far uccidere, perché ci portava all'accusa che, diciamo, il di Cristina Giuseppe e Pippo Calderone, che erano compare, non avrebbero avuto il coraggio che di uccidere a Francesco Madonia di Vallelunga, se non avevano l'appoggio di questi personaggi, che erano pure compare loro, Gaetano va dalla mente e Stefano Bontade. Il di Cristina, in qualche modo, ha avuto una reazione legittima, cioè prima è stato attentato alla sua vita, lui per un puro caso rimane vivo, e dopo uccide, diciamo, a questo capomandamento, che era Francesco Madonia, amico, padre di un certo Pippo, dopo famoso nella cronica mafiosa, amico di Salvatore Rina. Ho capito. Senta, andando in quel periodo, lei sa che avviene in quell'anno, come ho detto, questo fatto per cui è processo, ed è stato poi arrestato nel marzo 85 Pippo Calò? Sì, io in qualche modo, guardi, io seguo un pochettino tutto questo andaggio, perché o dentro o fuori, ma comunque io seguo, insomma, quello che avviene, diciamo, dentro qualcosa nostro. Presidente, scusi, ecco, no, c'era un'opposizione, poi i mezzi non hanno consentito di farlo, se permette, avvocato Cianferoni, chiedo la parola per dire quanto segue. Sì, prego, grazie Presidente. La questione era questa, da stamani stiamo sentendo questi temi così trattati, ora, su Mutolo vorrei dire questo, il signor Mutolo, appena riferito prima, lo dico perché i due giudici togati sapranno poi come selezionare il materiale e quant'altro, ma la corte è complessa, cioè ci sono anche i popolari, a me pare che qui si faccia una grande confusione e questo denota poi la suggestività di tutto questo tema. Ecco, riporto a un tema preciso, processuale la mia opposizione, come prima facevo un problema di pertinenza che rimane preciso e identico, ora aggiungo anche la suggestione, sotto quale profilo? Un attimo fa il signor Mutolo riferiva dell'omicidio di Cristina e, se non erro, fu scomparsa l'omicidio, non me lo ricordo, del signor Calderoni. Siamo nel 1975 o giù di lì, esordisce poi il pubblico ministero dicendo in questo periodo c'è la strage del Natale, non è così, sono passati nove anni, sono passate decine e decine di fatti, quindi sotto questo profilo che idea si stanno facendo i giudici? Di una grande confusione, ora ovviamente la difesa. No, io farò una memoria a questo punto perché ciascuno di questi signori collaboranti porta delle cose, alcune vecchie, altre nuove, alcune da usare in altri processi, me ne sto rendendo conto benissimo, per cui la questione di Firenze bisogna risolverla con il diritto, io faccio l'avvocato, sono un avvocato e sono qui a ragionare di diritto, non di sociologia o di storia. Qui si sta facendo per l'appunto un melting pot, dicono gli inglesi, di fatti eclatanti e gravissimi, nei quali poi il test si perde, tanto vero, e qui chiudo Presidente, l'ultima parola del signor Mutolo quale è stata? Seguivo l'andazzo, ora noi signor Presidente dobbiamo in Italia consentire che un fatto di strage venga definito un fenomeno da mettere in un andazzo, ma io lo capisco perché avevo 27 anni, sentivo Mutolo, ne ho 49 e sto sentendo Mutolo, per cui a un certo punto dico non so più che cosa fare, la mattina come compro il giornale, vengo e sento Mutolo e sempre ce n'è una di nuovo, dico questa è la mia opposizione, non ne farò più di questo, io so che la signoria vostra ha fatto decine e decine e decine di processi di criminalità organizzata, quindi sa come vedere una suggestione, come vedere una deduzione, una congettura, una risposta a tema, a tema. Qui su questo sono tranquillo, però si sta facendo un'enorme confusione perché mettere di Cristina insieme alla questione di Firenze significa mettere veramente il dolce prima dell'antipasto, per usare anche io una metafora un pochino povera della quale mi scuso, visto la gravità dei fatti che richiedono un'elevata attenzione, una grande umiltà, una grande professionalità. Sotto tutti questi profili io ritengo che queste domande non siano pertinenti e siano tutte suggestive, perché il tema è quello del capo di imputazione che verte su un fatto 23 dicembre 1984, non verte su quando nel 1967 il signor Gaspare Mutolo faceva parte o non faceva parte. Sì, avvocato le sue considerazioni sono giustissime, noi cerchiamo adesso di concentrare le nostre domande sui fatti più prossimi a quelli per cui è processo, ma d'altra parte l'ultima domanda del primo mistero era proprio contestualizzata all'84. Ma poi anche sulle circostanze mi permetto di far rilevare il ruolo di Rina e quello di mandante organizzatore di aver programmato la strage, quindi se non si sa che ruolo ha nell'organizzazione come assunto il comando nel tempo e anche sulle circostanze indicate nella lista testa. Certo, sull'ultima considerazione dell'avvocato Cianferoni, pure giustissima, ma il test aveva iniziato dicendo se seguo l'andazzo. È chiaro che adesso dovremmo essere necessariamente più precisi sulle sue fonti di conoscenza che andrà a riflettere. Prego, pubblico ministero. Mi pare che l'ultima domanda, eravamo arrivati, siamo al dicembre 1984, ora questo intervento mi ha fatto dimenticare, avevo chiesto, credo che all'epoca il comando era di Cosa Nostra, in Mani Corleonesi, a Totorrino, era questa la domanda. Sì signore, e se vuole le posso dire anche chi comandava. Comunque io le stavo dicendo il presidente, scusa anche io per il filo, che io da quando ho collaborato avevo quella mentalità di quello che era la mafia perché io sono cresciuto in quell'ambiente, anche se sono entrato a fare parte nel 73, però avevo zie, suoceri di mia sorella, zie completamente materne che erano mafiosi. Diciamo, ma la mia mentalità di mafioso, cioè io rigettavo il pensiero, e io che mi sono fatto collaboratore perché nella mafia Rina ha fatto uccidere anche delle donne e dei bambini perché quando non comandava Rina questo discorso non c'era e le posso portare una cosa specifica in modo che l'avvocato comprende che il mio è un discorso alla domanda ma che mi fa il signor Presidente. Nel 1977-78 arrestano, cioè sequestrano una chetta graziella mandalà, viene sequestrata a Morreale mentre aveva una febbo-crise per riscuotere il denaro. Questa donna viene liberata a Partanna-Mondello e la guardava una donna, la moglie di un ceto corrado. Gaetano Badalamente, che era ancora lui che comandava, ha detto non è perché c'è l'ordine che in Sicilia non si devono fare sequestri, tutti quelli che fanno i sequestri devono essere uccisi, dice questa è una donna, se qualcuno si sente di ucciderla, la può uccidere, ma non perché c'è la regia, perché i mafiosi, le donne e i bambini sono persone sagre. Quella donna, signor Presidente, non l'ha toccato nessuno, sono state eliminate tutti quelli che avevano fatto questo sequestro, che a parte erano mafiosi, a parte no, sono state tutti strangolate, quella donna no. Cioè io ho messo a prendere il pensiero di collaborare precisamente dopo che hanno ucciso alla moglie di Giovanni Pontate. Si rafforzò il mio discorso quando venne uccisa la mamma, la sorella e la zia di Mannoia in un agguato perché si seppe che questo ragazzo stava collaborando e quindi però, ma non solo in me, ma in tanti mafiosi diciamo questo fattore si rigettava, cioè era una cosa astuta. Quindi io però conoscendo molto bene a Falcone, a Borsellino, perché avevo avuto io di questi processi, quindi allora collaboro, cerco diciamo a Falcone, ma principalmente stato perché io non mi vedevo più come un mafioso che andava a uccidere a una donna, non per caso, ma perché ci facevo l'agguato io a tre donne, cioè era una cosa con dei vesti napoletane che discutevamo, era una cosa completamente che faceva schifo all'essere umano. Signor Udo, una cosa. Sì, sì, no, no, rispondo subito. Io quando dopo ho collaborato e le prime volte il dottor Vigna si informava se io sapevo qualche cosa della strada e del treno, io che ci dicevo no, e le raccontavo il discorso che ho detto poc'anzi perché noi abbiamo indotto al tribunale, a personaggi dello Stato ad accordare nel 74 di non fare associazione e si volevano fare degli attentati, ma le raccomandazioni erano quelle di non fare morire vita umana perché non c'entravano niente. Quindi io per un certo periodo ci dicevo sempre a dottor Vigna no, ma i mafiosi che fanno queste cose, anche se avevo letto insomma tutto l'ha fatto di Pippo Calò, però dopo quando è successo nel 93 quello che i mafiosi hanno fatto, mi sono dovuto ricredere perché se una persona mi dice a me oggi ma i mafiosi, ma i mafiosi è un conto, i collonesi che avevano perso diciamo la ragione umana e sentivano soltanto quello che diceva Salvatore Rina, che te può dire erano capaci di fare qualsiasi cosa brutta. Sì, signor Ruto, la domanda del primo mistero era, nell'84, quindi mi rendo conto che si tratta, lei deve fare mente locale a qualcosa che le stiamo chiedendo di oltre 30 anni fa, ma nell'84 qual era la situazione ai vertici della mafia? Se lo sa, in base a che elementi lo sa, oppure può anche dire che non. Ci sono delle dichiarazioni in cui ho fatto, faccio, mi posso sbagliare qualcuno magari che è morto e vivo, però diciamo nel 1984 quello che comanda è Rina, Salvatore, è capo della commissione, Buscemi, dopo se vuole che ci innomano anche a quelli morti, cioè Bontade e c'era pure… Nell'84 stiamo parlando del… Sì, Bontade è morto, va bene, ora insomma… No, lo faccio a rispondere, no, scusi Presidente, questo è una cosa antica, mi posso ricordare male di qualche persona. Sì, per le vive che ci sono ancora sarebbe Rina, Provenzano, Ganci, Calò e dopo gli atti sono quasi tutti morti perché c'era Nene Gerache, Totamontalto, insomma tutte persone che sono stati eliminati, però queste persone allora c'erano, insomma, sono 4 o 5 che ancora resistono, il Signore non se li chiama e quindi sono ancora qua. A San Giuseppe Iato chi c'era, si ricorda? Quando mi sono… No, stiamo parlando dell'84, dopo… La commissione che era nel 1984 era Salvatore Irina, Provenzano, Montalto Salvatore, Buscemi, Geraci, Ganci e dopo il posto di Michele Greco, credo che nell'84 l'aveva preso Opuccio che viene ucciso dopo in carcere, Olucchiese, Pino Savoca, allora che aveva preso il mandamento di un altro… insomma, questo insomma… Vabbè, senta… Gambino che è morto pure, che aveva preso il posto di Riccobono, insomma… Giuseppe Gambino. No, le chiedevo a San Giuseppe Iato si ricorda chi c'era? Dove? Forse non… San Giuseppe Iato. Sì, in quel periodo comanda Brusca Bernardo. Eh, perfetto, allora, è così giusto perché è chiaro che sono fatto… Sì, qualche nome mi spugge all'oggi, insomma. Va bene, e quindi erano questi, lei dice, se ho ben capito, della strage all'epoca non sapevo niente, sono stato sentito dal dottor Vigna, poi facendo mente locale con gli eventi successivi, con gli eventi successivi relative alle stragi degli anni 90, e lei ha… insomma, è arrivato a diverse conclusioni, è così? Ma le conclusioni, ecco, più che le sue deduzioni ci dica se ha saputo dei fatti specifici e da chi li ha saputi. Guardi, e… a parte che io diciamo… quando collaboro io preannuncio le persone che potevano fare le stragi in Italia, ci sono Barbale che lei, signor Presidente, può richiedere, insomma, in cui io specifico i… Magarella, i fratelli Gradiano, insomma, faccio qualche dito di nome, insomma, personaggi che dopo sono stati implicati in qualche modo in questa cosa. Dopo, io mi sono fatto convinto che effettivamente che la mafia poteva avere a che fare con il treno del Natale del 94, quando ho sentito che a Roma i mafiosi avevano preparato, diciamo, di fare scoppiare una macchina, mentre c'era una partita, e questa stragi che doveva far morire di questi politotti un centinaio, addirittura perché era messa la macchina vicino dove scendevano tutti la forza dell'ordine. Qua in che anno siamo? Nel 93. Ecco, sì. Quindi siamo molti anni. Noi siamo… Io parlo di quando, insomma, si sono pepettate le stragi, diciamo, nel 93. E quindi… Presidente, scusi, può dare un contributo alla difesa in questo senso? Certo, certo. No, perché qua, ripeto, la confusione è ormai depubblicata. E siamo fatti molti anni dopo. Quando esci… È fatta dopo. No, ma poi si ricostruisce bene tutta questa vicenda, molto bene. Allora… Presidente, però su questo punto io chiedo che la… Scusi, 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 avvocato, siccome è in sede di esame, l'avvocato poi ha diritto a un controesame, se mi fa concludere… Sì, avvocato, magari poi in sede di controesame chiariamo meglio questa posizione, facciamo concludere. Ma se i dati sono scorretti, che cosa deve fare una parte? Scusi, se il dato è falso, se il dato è falso, se il dato è falso… Ma il dato è falso di chi intanto, chiariamo? Falso da parte di chi? Il dichiarante, il dichiarante… No, lei pubblico ministero fa domande molto ampie. E poi lei lo farà notare. Intanto lei poi lo farà notare. Io, Presidente, chiedo di concludere… Sì, sì, no, facciamo concludere il primo ministero, poi diamo… Vabbè, di qui in avanti si fa come se fosse un esame vero. Andiamo avanti. E allora, diciamo quindi, come ridiceva il Presidente, signor Mutolo, poi è una sua deduzione sulla base delle indagini che sono state effettuate successivamente, le indagini effettuate relativamente alle stragi poi degli anni 90, l'attentato all'Olimpico, eccetera, le stragi avvenute fuori l'Italia e così, oppure ha altre fonti di informazione, fonti di conoscenza? Questa la domanda è chiara. Sì, Presidente, io dal 91, diciamo, parlo con Falcone, nel 92 ufficialmente io sono, insomma, uno dei primi dopo Mannoia, perché Mannoia dopo che uccidono alla mamma, sorella, zia, sono in America, sia Buscetta, cioè ogni mafiosa, non ci sono più mafiosi palermetane che collaborano. Io ho questo coraggio perché qualche cosa si ribella dentro di me, perché conoscevo alla moglie di Giovanni Pontati. Comunque, infatti il buon Falcone, quando io lo vado a cercare e lui mi viene a trovare e le dico che voglio collaborare, e c'era presente anche un altro magistrato Sinisi, Gian Nicola Sinisi, quando il dottor Falcone a me mi dice che non mi poteva interrogare perché lui stava facendo altri lavori, io subito le dico basta, l'argomento è chiuso, non voglio più scusarsi se l'ho disturbato. Il dottor Falcone ha la pazienza di stare un'ora e mezza con il dottor Sinisi e mi spiega che lui non è che se n'era andato di Palermo perché non stava facendo la lotta alla mafia, anzi da Roma la stava facendo con più forza e quindi mi convince di continuare perché il mio era una cosa bella per liberare la Sicilia di quelle ormai di quelle persone che non erano più persone umane ma erano persone insomma e quindi io incomincio a collaborare. Falcone succede quello che succede, io il primo luglio del 1992, io, cioè ci sono le date ben precise, io il 25 giugno parlo con Silvia della Monica e con il dottor Vigna per discorsi della Toscana, il primo giugno mi viene a trovare il giudice Borsellino, va bene? Logicamente ma era una lotta che c'era alla mafia che era una cosa che era inconcepibile pensare come era situato l'apparato della mafia e dello Stato, mentre la mafia aveva una potenzialità in quel periodo che era capace di fare qualsiasi strada, infatti io col dottor Borsellino più di una volta e dopo con Natole che è ancora vivo e Loforte, non voglio parlare perché le dico io prima che parlo di alcuni fatti, noi dobbiamo mettere in sicurezza i mafiosi perché i mafiosi hanno una potenzialità, sono in condizione di fare qualsiasi stragi e qua ci fanno saltare a tutti, quando si sono resti conto e hanno incominciato a fare i primi processi, dopo qualche sei mesi, va bene? Dopo io avere fatto il primo confronto con Rina, c'era pure un certo marchese, ma il primo l'ho fatto io, andò a finire a ridere perché io mentre accusavo Rina, che facevamo il confronto seduto accanto, il Presidente Agnello e il Giudice Sogato, che ora è Presidente del Tribunale di Palermo del Provenzano, a un certo punto si ritirano perché Rina diceva ma questo io non lo conosco, è un povero disgraziato, sì ci ho regalato dei soldi che io ci dicevo guarda io ci andavo a casa sua, lui veniva a casa mia a portarti i soldi a mia moglie, comunque il Presidente che si ritirano in Camera di Consiglio ma è questa cosa che l'Avvocato se lo può leggere, se lo può sentire su internet, non tutto, che Rina convinto nella sua ignoranza e nella mia ignoranza che le telecamere non c'erano, mi dice Gasperi perché non ritorni a essere quello di prima, sei ancora in tempo e io allora gli ho detto no perché avete ucciso donne, avete ucciso quanti... Signor Mucro la domanda del primo mistero era, riferamente al fatto che ci interessa, questo qua che dobbiamo giudicare, ci sono fonti di conoscenza precise che lei può riferire o no? Questa è la domanda. Guardi, punti precise, io mi sono fatto un convenzimento pecito, io dopo le straglie che hanno fatto nel 1993, 92-93 esatto, mi sono fatto convinto che mentre prima ero io nettamente contrario che la mafia mai mai avrebbe potuto fare un attentato su un treno, ora invece con tutta coscienza le devo dire che la mafia Rina, purtroppo l'altro seguivano i suoi ordini perché avevano semplicemente paura perché se uno si permetteva a Rina di contraddirlo in una qualsiasi cosa, era questione di tempo ma quello veniva ucciso. Quindi ora io sono... Ma è un suo convincimento collegato alla valutazione di un fatto concreto, specifico o è così? Ma guardi, ma perché Pippo Calò era qua a Roma, diciamo, io mi ricordo che hanno trovato in una villa, non lo so, vicino a Roma, è una cosa, insomma un timere, qualche cosa che c'era un collegamento, però infatti io conosco a tutti, a Rotola, a Calotto, ma io li conosco personalmente, non è che non li conosco. Senta, però a me interessava anche le circostanze che stava riferendo prima in ordine a questa conoscenza diretta tra il test e Totò Rina, intanto a quanto risale questo rapporto di conoscenza? 92, parlava del 92, pubblico mistero. Il confronto quando... Nel 92? 92, parlava. 93? No, no, perché Rina viene arrestato nel 93, dopo 15 giorni a febbraio del 93. C'è stato il confronto, ma i fatti a quanto risalgono i fatti oggetto del confronto? Quando dici io sono venuto a casa tua, ti ho dato... Ah, ma poi lei è tempo, nel 75, nel 73. Ecco, questo volevo sapere. Quindi lei ha avuto questo rapporto, diciamo, stretto... Di amicizia, di... Logicamente, ma io ho rotto, no che ho rotto, cioè ci siamo allontanati di Salvatore Rina perché io non ho voluto tradire al capomandamento mio che era una persona che io stimavo e volevo bene come a Salvatore Rina perché se Enrico Bono mi avrebbe detto una cosa male di Salvatore Rina, in quel periodo, io ci avessi detto a Salvatore Rina, no, ma perché è un amico mio, insomma, è una persona per bene. Quindi risale dal 75 ed è continuato questo rapporto di conoscenza anche successivamente o no? Sì, logico che è, logico. Durante il periodo di latitanza lei ha visto mai Rina? Guardi, io negli ultimi periodi che ho visto a Rina è stato intorno all'83-84, dopo ho avuto notizie nell'89 a Bologna del cugino di un certo pieno legio e dopo lui era chiellato tanti, io ero magari messo in galera per altre cose, non abbiamo avuto più rapporti diciamo tinsichi, ma i nostri rapporti erano diciamo buone, amichevoli, anche se da parte mia erano sincere, da parte di Rina erano... Ma i rapporti che aveva con Rina erano collegati agli affari, alle vicende di Cosa Nostra? Logico, io parlo di affari di Cosa Nostra, insomma. E Rina perché veniva a casa sua? Rina, ma io ci parlo del 70-71 perché io non c'ero e Rina passava con Gambino Giacomo Giuseppe e lasciava i soldi, diciamo, delle mesate che danno a persone che rispettano, ma lei pensa che io ero uno tramite Rina che dovevo guardare, stavo guardando, diciamo, che l'omicidio che dopo viene nel 1969 di Michele Cavataio. Ho capito, siamo a partire, senta un'altra cosa, lei Pippo Calolo conosce? Sì, abbastanza bene. E in che occasione l'ha conosciuto e quando? Guardi, le occasioni erano tante, Pippo Calolo dopo diciamo che lo hanno arrestato e fortunatamente era uscito nel 71 quando lo chiama Leonardo Vitale che lo chiama per il sequestro Cassina, Pippo Calolo dopo che esce, dopo 38 giorni, dopo 40 giorni che c'è una legge che lo devono interrogare, parte e se ne va a Roma. fa prendere le tracce, diciamo, a Palermo e si stabilisce a Roma. Quindi noi sapevamo che a Roma c'era questo punto d'appoglio di Pippo Calolo, insomma. Ha visto Pippo Calolo in Sicilia in quegli anni? Sì, Pippo Calolo di tanto in tanto veniva per discorsi di mafia. Io accompagnavo a Riccobono e vedevo anche a Pippo Calolo, insomma, in diversi punti. Ora non è che mi posso ricordare la data complessa. No, la data precisa no. No, ma il periodo fino a nell'82-83 quando lui fece, diciamo, Cangeme che dopo ha collaborato come sottocapo e il cugino Franco Scrima come suo, diciamo, consigliere, ci siamo visti, diciamo, in quel periodo. Invece dopo l'82-83 continua a partecipare sempre alle commissioni e venire in Sicilia? Sì, sì, ma vedi, c'era un periodo che anche se le persone erano in galera, avevano i sostituti, che io questo l'ho specificato agli udici di Palermo, infatti inventano dopo delle cose in modo che evitano ora queste cose, che anche se il capo era in galera, il sostituto, diciamo, aveva le stesse cose, il capo re, allora c'erano, eravamo tutti nel masterprocesso, eravamo tantissime persone, ma chi veniva a colloco portava un bigliettino oppure le ha lasciate fuori, insomma, le contavano come se uno era fuori. Sì, volevo sapere, quando Calò veniva in Sicilia, non le chiedo l'anno, il giorno, il mese, quando stava a Roma in quegli anni là, perché lui a marzo 85 viene arrestato, dove l'ha visto? Dove si regava? Ma lui si vedeva, veniva a Palermo, perché Pippo Calò era un personaggio importante, sia a Palermo città, nella sua, diciamo, nel suo regno, oppure in qualche paesino là vicino come Casteldaccia, come Bonfornello, insomma, i punti quelli erano, insomma, ma tutti i mafiosi in quel periodo non è che hanno problemi come scendere a Palermo o come andare a Milano. Cioè, c'erano dei documenti falsi, i controlli della polizia, non erano tanti accaniti per come potevano essere ora, insomma. Ma lei accompagnava Riccobono, vedeva Calò perché accompagnava Riccobono, lei? Sì, signore. E si incontrava, quindi vedeva anche gli altri, chi c'era, Calò, Riccobono. Ma quelli della commissione, c'era Rina, c'era Ganci, c'era Inserillo, in quel periodo c'era Bontati, insomma, c'erano quelle che piano piano, che dopo sono state tutte eliminate. Ho capito. Va bene, io, va bene così, presidente. Sì, domande delle parti civili? Avvocato Ammannato, prego. Avvocato Ammannato, parte civile. Mutolo, può personalmente riferire alla Corte di Assise quello che lei sa verso gli anni Ottanta, circa il depistaggio che operava a Cosa Nostra? Negli anni Ottanta? Sì. Con riferimento, se può riferire personalmente, quel che sa sulla falange armata? Ma guarda, della falange armata io non è che posso dire che erano questi della falange armata. Noi pensevamo che potevano essere personaggi, diciamo, terroristi, diciamo. Ma in quel periodo, diciamo, la mafia è completamente in una maniera, diciamo, tranquilla. C'è Michele Greco che tiene questi contatti con tutti i mafiosi, quindi fino all'82 c'è Michele Greco che apparentemente, diciamo, è il capo della commissione, ma in effetti dopo noi sappiamo che Michele Greco era un succobe di Salvatore Rina che portò, diciamo, a fare i danni che sono stati fatti, diciamo, in Cosa Nostra appunto per questo doppio gioco che faceva, diciamo, Michele Greco. Perché mentre Busca, oppure Geraci, oppure qualche altro che si guardava perché erano corlionesi, esatto, Michele Greco invece era quella figura paternalistica che tutti, diciamo, ascoltevamo perché era una persona buona di cuore, anfabile, una persona che non aveva completamente motivo economico. Quello che aveva, Tom. Si ricorda che è stato interrogato il 12 ottobre 2010 dal dottor Itri di Napoli proprio a questo proposito, cioè per sollecitare la sua memoria che negli anni 80 all'interno dell'organizzazione mafiosa operavano alcuni uomini d'onore il cui compito era quello di compiere atti di depistaggio del tipo false rivendicazioni di attentati della mafia o cose di questo genere. Ricordo, e poi si può chiarire meglio, che per tale tipo di rivendicazioni veniva utilizzata la sigla falange armata che veniva fatta apparire come un'organizzazione estremista dedita ad attentati. Lo scopo era rifare apparire come un fatto politico mentre invece si trattava di fatti che avevano un'altra finalità ossia creare tensione nel paese distogliendo l'attenzione dal fenomeno mafioso. Questo genere di attività era destinata a mettere a riparo cosa nostra nei periodi in cui lo Stato aumentava la pressione nei nostri confronti. Può chiarire, si ricorda? Si ricorda queste... Guardi, sicuramente queste dichiarazioni avvengono dopo Lollomechino Mattarella. Avvocato, lei che deve tenere presente che ho fatto migliaia, migliaia, ma non migliaia, migliaia e migliaia di dichiarazioni. Presidente, io anche su questo prima sono stato zitto, ma una cosa va detta. Le contestazioni vanno fatte, secondo me, poi lo dice la Corte, sul verbale trascritto, cioè sulle vere parole del signor Mutolo. Questo è un sunto operato dal verbalizzante. Non lo so se è un verbale... È chiaro, è così. Votate sia il sunto. È chiaro che è il sunto. Io sotto il profilo della contestazione l'ho fatta con l'integrale, non col sunto. Io sollecito la memoria del test, se può riferire alla Corte di Assise, su questa circostanza relativa ai depistaggi negli anni Ottanta. Se poi si ricorda... No, c'è opposizione, perché questa è una tesi, è una tesi espressa nel riassuntivo. La difesa chiede che venga contestata esattamente l'integrale. Io prima sono stato zitto, ma ora non posso più stare zitto. L'avvocato ha mannato, Presidente, difendeva con me gli imputati, quando si diceva che il mutulo non era attendibile, ha capito. L'avvocato Marano, se sono, diciamo, un sunto, no. La contestazione ha un senso solo se sono le dichiarazioni integrali nelle verbale. Altrimenti non è... Io leggo verbale e leggo a domanda a risponde, poi ve lo faccio vedere. Sì, però il sunto, Presidente, è il sunto delle dichiarazioni rese. Sì, quindi non vale come contestazione formale, vale come domanda generica al test di riferire... Sotto questo profilo la difesa non l'accetta, perché diventa domanda suggestiva. O si fa la contestazione dell'integrale, o non si può usare il riassuntivo che esprime una tesi investigativa. Sì, comunque adesso cosa ci dice il test oggi? Cosa sa di questo pseudonimo Falange Armate? Guardi, io ho fatto qualche dichiarazione sulla Falange Armata, ma principalmente ricordo quando c'è stato l'omicidio Mattarella, se non ricordo male, noi parliamo di quel periodo, anni 80, non sono molto seguito, 82, quindi che i mafiosi, diciamo, cercavano di qualche omicidio farlo che diventare politico. Infatti io con questo corrino ho avuto molti scontri, perché si camuffavano le pistole, perché di solito il mafioso usa la pistola a tamburo, perché è più sicuro anche se ha sei colpe o cinque colpe, però è sicuro che farà. Invece l'automatica o la semi-automatica spesso si inceppa, o per la tribuna perché è una macchina di letto, insomma, quindi facendo questi camuffamenti io lo sapevo, insomma, e quindi ho fatto delle dichiarazioni in cui, sì, quando diciamo che erano questi Falange Armate, sicuramente erano, perché magari ci sarà, diciamo, questa Falange Armate, che sono identità diversi dei mafiosi, però i mafiosi, per depistare dell'indagine, diciamo, si camuffavano. Ma questo lei come lo sa? Come può dirlo questo fatto? È una sua idea? Ma no, io lo so, perché, che vuole? Io, purtroppo, essendo che nella mafia uno sempre si scambia delle cose, delle parole, io che sono stato con tutti i personaggi più importanti, io che sono stato con Rina, con Luciano Ligio, con Bagarello, con Maria, cioè, cioè, là non è che si sta cinque minuti, quando uno sta giorni, giorni, anni e mesi, cioè, il dialogo è, come è, c'è un certo dialogo nasce perché per forza che deve nascere tra detenuti che sono in comune, altrimenti uno si fa partire, si isola, ma uno che non può stare in galera mesi, anni, senza parlare con un personaggio, e dopo i mafiosi eravamo, insomma, tutti, cioè, non c'era questa mentalità, se io, mafioso, raccontava una cosa o un altro mafioso che poteva nascere il perdito, cioè, non, cioè, che si parlava tranquillamente, cioè, anche perché noi abbiamo avuto l'esperienza di Leonardo Vitale, va bene, che purtroppo quello è stato il primo perdito tra un filo pacifico negli anni 80, negli anni 73, però, giustamente, la mafia era talmente ingrabbugliata bene che l'unico che fu condannato fu il Vitale, insomma, ecco, non c'era quell'idea che un pentito poteva parlare, ognuno che si metteva a ridere. Dopo, invece, negli anni, quasi negli anni 90, grazie, diciamo, alla caparbietà di Falcone, ha creduto, diciamo, a questo fenomeno che si poteva svantellare, insomma, per occhi, e, diciamo, avvalorandosi anche dell'aiuto di personaggi che conoscevano bene questo fenomeno e non si sbagliava perché il fenomeno, insomma, se fino a pochi anni fa c'erano questori avvocati, non parliamo di avvocati, l'avvocato, insomma, ancora oggi, insomma, dicono che la mafia non esiste, non c'è, c'è questo tipo di avvocati che dipendono soltanto mafiosi e, lo gente, perché i mafiosi pagano bene, ma, gente, sono sempre che dicono la mafia non esiste, è un'invenzione, cioè, è una realtà, insomma, anche se stiamo nel 2015, è una realtà che non si può nascondere, insomma. Va bene, altre domande, pubblico mistero? No, e l'avvocato Mannato ha concluso? Sì. Possiamo dare la parola all'avvocato Cianferoni? Avvocato, domande? Sì. Prego. Anche se sono un po' superflua, ringrazio il Presidente per la domanda. Senta, signor Mutolo, buongiorno prima di tutto. Buongiorno a me. Quando scompare Rosario Riccobono? Eh, grazie sempre. Quando scompare Rosario Riccobono? Il 30 dicembre del 1982. Il 30 novembre del 1982. 282. Allora, vuole dire alla Corte come faceva ad accompagnare con Rosario Riccobono da Pippo Calò nell'83-84. Le date non sono proprio precise, eh? Che ha riferito, probabilmente. No, Presidente, è un mondo che cambia. C'è la sentenza del Maxi Quater. Signor Mutolo, si vuole riferire la verità su questo punto? La famiglia di Pantana fu sciolta, la famiglia di Pantana. Avvocato, scusi, ma io ho specificato che accompagnava Riccobono nell'83-84. Forse lei senti, non lo so, lo spirito di Riccobono che dice che non è così. Cioè, se io le sto dicendo che Riccobono... Ma ci sono centinaia di dichiarazioni in cui io sempre dico Riccobono. E' scomparso nel 1982, il 30 novembre. Non è che dico a novembre. Appunto, la Corte, anche il PM, senza presunzione da parte mia, dico, non avendo presente questi dati, le hanno chiesto. Lei come lo vedeva Calò? E lei ha risposto perché ci accompagnavo Riccobono. Domanda del Presidente. Ma non nell'83, ma non nell'83-84. Sì, ma la domanda era quella però. La domanda era quella? Io non me la ricordo. È chiaro che non si ricorda, riferisce fatti di oltre 30 anni fa. Quindi allora, signor Mutolo... No, io non mi ricordo perché la domanda, se è stata specifica, se a me mi avrebbe detto il Presidente o qualche altra persona, nell'83 che accompagnava Riccobono da Calò, io ci ricordo, no, non è possibile perché Riccobono non c'era più. Noi parliamo dell'81, dell'80, del 79, dell'83... Senta, signor Mutolo, ci siamo chiariti. Senta, signor Mutolo, è vero che... La domanda è suggestiva, Presidente, ma io ora poi le dirò le sentenze in cui tutto questo c'è. Nell'82 la famiglia di Partanna fu sciolta. Guarda, è stata sciolta la famiglia di Partanna Mondello? Non è che è stata sciolta. Cioè, la famiglia di Partanna Mondello, nell'82, purtroppo c'è delle perdite in cui scompaiono quattro persone. Importanti. Riccobono, Michalizzi Salvatore, Cannella Vincenzo e Savo Carlo, in cui logicamente c'è stato uno sbando, tante persone, ma in quel giorno proprio, il 30 novembre del 1982... Dell'82, dell'82, cioè a Palermo scompaiono persone di tutta la Sicilia, c'è dopo qualche ragazzo che dopo collabora come Ganci oppure come qualche altra persona in cui dice che Salvatore Rina, in quella data, pensa che aveva dato appuntamento a persone di cinque mesi prima, sei mesi prima, raggruppandole tutti per quella data, ma ci sono stati personaggi come Maiurri, un grosso mafioso trapanese, che alla polizia, fino a pochissimi anni fa, lo dava per vivo, per la dietante, andò tranquillamente in un appuntamento perché i collonesi si dovevano pulire i piedi, cioè i morti che sono successi in quella data, non lo può sapere nessuno perché non si sa, perché oltre a strangolare a diverse persone in diversi punti di Palermo, anche persone che non erano mafiosi, dopo la sera i signori sono scesi e tutti quelli che incontravano ci sparavano e hanno trovato un cetto neri, un altro ragazzo, completamente con la macchina accesa, con il freno a mano tirato morti, quindi signor Mutolo, scusi eh, signor Mutolo, quindi si può dire il 30, 11, 92, 82, 34 anni fa, è una data risolutiva per Partarna Mondello dove c'era Rosario Riccobone e c'era lei, è giusto? Sì signore, ma subito prende il comando Gambino Giacomo Giuseppe. Per favore, per favore Musolo, guardi, per favore, andiamo avanti, allora lei nel 90-91 è qui in Toscana a Gavorrano? Sì. O come diceva lei, Gavorrana? Gavorrano sì, Montalto di Gasso, Gavarrano sì. Oh, aveva un processo da qui, signor Presidente, l'intervento della Procura Fiorentina per fatti qui in Toscana, ci sono dei giudicati che questa difesa farà acquisire, l'Avvocato Ammannato bene li ricorda. Quindi quando lei viene sentito, il passaggio è decisivo, poi mi chiedo, da Vigna in che periodo siamo? Ma, gliel'ho detto poc'anzi, intorno alle, io ho contatti proprio, che ce l'ha avuto prima che di morire Riccobono, e per un traffico di droga, per un traffico di droga, in cui io volevo mandare la droga, diciamo, in America, e me lo hanno impedito perché, diciamo, Rina doveva controllare. Beh, questo per dare alla Corte una dimensione, scusi, eh, Mutolo, ormai, per dare alla Corte una dimensione del profilo del signor Mutolo, lei aveva contatti il più grosso narcotrafficante mondiale d'eroina, giusto? Che era Kobachin. Sì, signore. È giusto? Ecco. No, perché gliel'ho fatti per i processi, Presidente. Sì, ma la pertinenza è comune. Detto questo, la pertinenza arriva subito e si dimostrano delle falsità o comunque delle superficialità del signor Mutolo, come in tutte le sue deposizioni. Presidente, non può essere condotto a giugno così. Lei viene sentito a marzo, aprile, maggio, giugno del 92, è giusto? Anche c'è, scusi, Presidente, c'è opposizione, lui ha detto che collaborava, ha iniziato a collaborare il 92, non si può chiedere a un test di ricordarsi esattamente la data, conferma se era maggio, giugno del 92. Vabbè, questa è una data che ricava... No, ma gliel'ho posto dire, signor Presidente. Cioè, io sono stato arrestato... Lo sa perché, Presidente? Lo sa perché? Perché in quei mesi si celebrava l'appello di rinvio dalla Cassazione del processo Calò. Avvocato Cianferoni, faccia le domande al test. Faccia le domande al test a cui... Questa si dimostra il perché veniva sentito da Vigno, c'era un perché istituzionale preciso riferito a questo processo. Sì, l'avvocato Cianferoni... Che si celebrava nella primavera del 92. Faccia le domande al test. E lui disse, non ne so parlare. La domanda dopo è, lei ha detto che ha pensato, sono parole sue, dice, io mi sono fatto l'idea che possa essere stata cosa nostra del treno, quando ho saputo della macchina per lo stadio che doveva morire centinaia di persone. Giusto? Sì, sì. C'è signore, sì. Ecco, quando è che lei ha saputo della macchina e dello stadio e le centinaia di persone? Ma dopo che sono nati... Cioè, io sono stato la causa... Più o meno in che anno siamo? Nel 93. 93. Io sono stato la causa di questa primavera, chiamamolo così, primavera rivoluzionaria, dei collaboratori. Cioè, prima di me non è che c'erano collaboratori, signor avvocato. Bene. Cioè, c'era Buscetta, Contorno e Mannoia in America. Dopo io nasco con Falcone, Falcone salta in aria. Parlo con Borsellino perché c'erano fatti ben chiaro. Borsellino salta in aria. Io proseguo questa mia lotta alla mafia e a quelli, diciamo, corrotti con la mafia, perché non erano solo corrotti i mafiosi. C'erano altri personaggi che di qualsiasi sceto, va bene? Con altri giudichi. Quindi io ho aperto questa mentalità ai palermitani che dopo sei mesi di dirmi parolacce che io andavo nei progetti a fare il predicatore, tutto assieme a Mestre, io ho un confronto con Rina, di questi correnti, si alza, dicendo, perché io ci accusavo che avevo fatto arrestare a Ligio e avevo fatto uccidere a due persone innocente, lui si alza, dice, e nessuno più ci dice niente. Perché si erano convinti che quello che dicevo io era vero. Però il Presidente, preoccupandosi che succedeva la barahonda, rinvia il processo per dieci minuti, mi viene a trovare Natole e Loforte, che sono due magistrate ancora in vita, e mi hanno detto come mai non la... Si vede che il Signore ci ha fatto il miracolo. Da quel momento in poi c'era la lista di attesa dei collaboratori. Sì, signor Muto, lei risponde alle domande solo che fa l'Avvocato Sanferno. Scusi, signor Presidente, scusi, sì, 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 senta, senta, signor Presidente. Quindi lei questo fatto della bomba allo stadio l'ha saputo da dentro Cosa Nostra? Sì, signore, io sono... ormai che collaboro, sì, signore. E da chi l'ha saputo? E da chi l'ha saputo? Senta, allora entriamone, da quando è nato, diciamo, questo boom dei collaboratori, non è come ora che ogni collaboratore c'è una scorta, non ci possiamo vedere, non possiamo parlare. Cioè, lei pensa che lo Stato ha improvvisato, si trovò, diciamo... E da chi l'ha saputo? No, no, aspetta, e mi faccia dire da chi l'ha saputo. Cioè, io, da 20 persone, però mi faccia sapere... Da nessuno l'ha saputo, signor Presidente, perché nella corte c'è il dottore Disa, relatore, e sa benissimo, il primo a parlarne fu Scarano nel 95-96, uno che non fa neanche parte di Cosa Nostra. Il signor Mutulo sta raccattando, dalle pari processi, dati che sparge in quest'aula. Il dato dell'Olimpico è del 95-96 e si sa tutti bene in quell'aula. Quindi io potrei fermarmi qua, signor Presidente. Ho finito, mi farò memoria su come stanno le cose. Quindi, ha capito, non è vero che esce nel 93. È falso. Allora ci fermiamo qui, ci sono domande, Luistero? Volevo fare un'ultima domanda. Sì, prego. Volevo sapere, lei si ricorda che è stato sentito il 12 ottobre 2010? Anche questo non è che puoi ricordare la data. No, no, siccome è una domanda dal pubblico ministro... Io, guardi, io le posso rispondere a quello che le mi chiede. Non c'è ancora la domanda. Nel 2010, non tanti anni fa, ecco, dal pubblico ministero di Napoli, dottor Itri, si lo ricorda a Roma, negli uffici della DNA di Roma? Guardi, nell'ufficio della DNA di Roma, che sono americani, francesi, tedeschi e di tutti i comuni d'Italia. Cioè tutte le procure d'Italia venivano alla DNA, avevano la coda, i turni, i bigliettini, e mi hanno interrogato. Ma non ne sono gli italiani. In America sono andati in America. Allora faccio un'altra domanda, scusi. Mi faccia la domanda, ma che si ricorda più delle migliaia di dichiarazioni che ho fatto. Nell'ottobre 2010 lei era libero? Libero, sempre agli arresti, diciamo, e saccazzarari. Attualmente è stato di libertà. No, volevo solo rimarcare il fatto che l'obbligo di procedere solo alla registrazione vale per i pubblici ministeri e solo per gli indagati o imputati detenuti o in stato di limitazione. Quindi il verbale in forma riassuntiva, redatto da un pubblico ministero in presenza di due carabinieri, dell'avvocato che assisteva il test, insomma è stato, ecco, poteva essere anche contestato. Perché non c'è un obbligo di reso. Solo per rimarcare come... Se ne prende atto, grazie, grazie, grazie. Va bene, allora possiamo chiudere. Può andare, arrivederci. Avvocato, non è che me ne deve dare una colpa a me se non c'è la registrazione. Arrivederci, buona fondazione. Buongiorno, grazie. Allora, pubblico ministero. Allora, pubblico ministero.